ciao ragazzi benvenuti nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video di video assaggi come state tutto bene allora ragazzi prima di iniziare voglio ringraziare perché avete messo tantissimi mi piace tante visualizzazioni al video precedenti due video assaggi io vi ringrazio mi fa piacere sapere che questa rubrica vi stia piacendo quindi andate avanti così che siete i migliori non vi assaggio oggi andremo ad assaggiare drink on drink a himbe abbiamo assaggiato settimana scorsa la sorellina di questa bibita però era blu e sapeva di frutti di bosco questa è rosa e sa di lampone io l'ho già detta facciamo la buona la nostra buona la buona la buona la buona ha un buon olfatto l'odore sa leggero leggero di lampone scusa stavo dicendo frutti di bosco infatti il lampone è un frutti di bosco bicchiere è trasparente e andiamo con l'assaggio brindola alla nostra salute allora ragazzi devo dire che questa bibita come la precedente è troppo dolce si sente un botto che è lampone chimicissimo però non mi dispiace è troppo dolce quindi diamogli un voto voto anche per questa bibita è un 4 come la precedente perché è buona ma è troppo dolce per i miei gusti perché se lo stesse chiedendo io questa bibita l'ho comprata al teide negozio teide e ho pagato 65 centesimi 4, voto 4 quindi mi sa che tutta la serie di queste bibite saranno un 4 sempre chi riesca a trovarne altre ma questa è una cosa certa ragazzi questo mini video assaggi finisce qua vi ringrazio per avermi seguito vi abbraccio e ci vediamo prestissimo con un nuovo video ciao 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 ciao